Cri, partiamo dall'esultanza dopo il tuo gol decisivo, hai abbracciato Elia Legati. Sì, è stata un'emozione bellissima, ci siamo dati l'accordo che se segnavo andavo subito da lui, come ha detto anche lui, è venuto subito da me, è stato bellissimo. Questa è una partita, è una vittoria che hai deciso tu, ma soprattutto l'ha decisa il gruppo, abbiamo fatto veramente vedere che la Fiala al Pisolò è più che mai viva. Sì, esatto, alla fine è la forza del gruppo che gli dà qualcosa in più e ci metterà quello che metterà al campo. Samp Venezia, adesso serve grande umiltà. Sì, come sempre andiamo a combattere come facciamo sempre, soliti, umili e con l'atteggiamento giusto. Dedica per il gol quindi oltre Elia? Oltre Elia anche al mio padre. Grazie. Grazie. Grazie.